Slittal 12 luglio, la riapertura di via Biceglia ad Andria a causa dei lavori di interramento della ferrovia nell'abitato cittadino. Nelle prossime ore sarà firmata la nuova ordinanza dirigenziale a seguito della richiesta della ditta incaricata dei lavori. L'ordinanza di chiusura dell'importante arterie di accesso ed uscita dalla città scade infatti giovedì 6 luglio dopo 10 giorni di stop alla circolazione. Ma come è capitato già in altre occasioni è necessario uno slittamento a causa di nuovi intoppi come spiegato dalla ditta all'ente comunale. Intoppi in questo caso ad alcune tubature dell'acquedotto per cui è stata necessaria una sostituzione non prevista. Le opere di scavo di circa un metro per consentire l'abbassamento del piano viabile per la successiva installazione del ponte sono state di fatto interrotte a causa di questo problema. La conseguenza tuttavia è quella che la città di Andria vivrà ancora giorni particolarmente complicati dal punto di vista della viabilità considerata anche la concomitanza per esempio lunedì prossimo con il mercato settimanale.